I giovani di 13 scuole superiori toscane si sono sfidati nella produzione di lavori e video per dire la loro sull'emergenza climatica nel progetto realizzato dall'Associazione di Giornalismo Ambientale Green Accord in collaborazione con la Regione Toscana. Due menzioni speciali e tre le scuole premiate per i loro progetti Salva Clima nel corso di un affollatissimo evento nella sede della Presidenza regionale a Firenze. Primo il liceo Marconi di San Miniato, secondo il poliziano di Montepulciano e terzo l'agrario Leopoldo II di Lorena di Grosseto. Sappiamo tutti che il clima sta cambiando, è un grande problema, dobbiamo affrontarlo, però gli adulti preferiscono dilazionare oppure far finta che non sia successo niente. Mentre i più giovani ci stanno mettendo di fronte alla realtà e alle nostre responsabilità, quindi questi ragazzi hanno percepito, diciamo così, anche l'area internazionale che gira proprio sul tema del cambiamento climatico. Tema sollecitato dal movimento Fridays for Future, nato attorno alla giovane attivista svedese Greta Thunberg e sul quale sempre più giovani hanno voglia di farsi sentire, come ha dimostrato l'entusiasmo degli studenti toscani coinvolti negli incontri svolti a ottobre e novembre con esperti e climatologi in preparazione al concorso.